Presidente Tortorella, al Forum Risk Management è uscito fuori un messaggio forte e chiaro. Dalla pandemia è emerso quanto le professioni sanitarie e le professioni mediche siano sullo stesso piano, anche grazie a una formazione sempre più aggiornata. Assolutamente sì, è la dimostrazione che la formazione di qualità porta l'eccellenza in Italia fuori nel mondo. Oggi siamo considerati un'eccellenza, l'eccellenza che prima era rappresentata solo da Israele, oggi l'Italia è considerata veramente la punta di guida di tutta l'Europa. La dimostrazione nel G7 che è ospitato a Londra dove si parla di formazione, della qualità italiana e della professionalità italiana, di tutte le professioni sanitarie. Oggi la pandemia ha messo in evidenza le professioni sanitarie. E in questo Consulcesi ricopre appunto anche essa un ruolo eccellente? Consulcesi è un'azienda che per la formazione sta facendo tanto, oggi è venuto qua anche Guido Rasi, che è il nostro direttore scientifico, la dimostrazione che la qualità per la professione sanitaria e per l'evoluzione delle professioni sanitarie è un elemento di grande attenzione. Oggi qua al forum si parla appunto di formazione e su questo Consulcesi riteniamo che sia l'eccellenza.